Se c'è qualcuno tra il pubblico che vuole fare qualche domanda, prego. Sto seduto. Si vuole presentare? Sono Mirko Della Vecchia, presidente Cene Alimentare, ma prima di tutto sono un cioccolatiere, un'impresa. Mi sembra di poter dire se ci sono 1500 imprese collegate che le imprese sono quelle più presenti in questa sala a questo punto. Intanto, grazie, voglio esprimere un sentito ringraziamento a Union Camere perché ancora una volta si è dimostrata una delle poche realtà, una dei pochi enti veramente vicini alle imprese. È la casa delle imprese, per fortuna che volevano chiudermi, ma per fortuna che stanno andando lentamente su questa via perché davvero per Expo noi piccole imprese, CNA rappresenta solo nel settore alimentare 45.000 imprese, ci stupiamo a volte di come Expo, di come questa grande macchina, non abbia riservato degli spazi per le piccole imprese, e ci siano, ma non solo per le piccole imprese, ma anche per le piccole associazioni di rappresentanza e siano girati numeri, economie fuori da quello che sono le possibilità di promuovere un sistema. Tutti sanno, non si va lì per vendere, tutte queste cose qui, però neanche il sistema delle piccole può essere rappresentato con le cifre che ci sono in ballo. Grazie veramente a Non Camera per aver messo a disposizione uno strumento, forse l'unico, devo dire la verità, forse l'unico, gratuito, paritetico, nel senso che tutti hanno la stessa visibilità. Io ho fatto un giochino, io sono uno di quelli che ha caricato il video e siete riusciti in un'operazione stranissima, che io ho fatto tante fiere all'estero, la Camera del Commercio veramente ci rappresentano in modo positivo e tante volte quando sei in fiera con qualcuno più bravo di te, dici, vabbè ma perché magari è più bellino, oppure ha la hostess migliore, oppure ha lo stand con lo monitor più grande o quant'altro. Qui con quell'omino con le percentuali, non so se l'avete visto, si può vedere, che aumenta sempre di più, qui veramente i criteri sono democratici, voglio dire, qui non è che uno se ha il video più bello, più brutto, vale di più, vale avercelo e quindi inconsciamente le aziende si rendono conto di quanto importante sia avere cinque foto, avere un video, avere una certificazione, perché quella asticella lì tutti la vogliono vedere piena e se non hanno il video si mettono lì anche con un cellulare, insomma prova mia voglio dire, e si fanno un video giusto per caricarlo e per raggiungere cinque punti percentuali in più. Oggigiorno dati anagrafici in internet di ogni singola impresa li dava solo qualche portale, che metteva via, che poi spesso erano sbagliate, via, numero di telefono, perché prendevano i dati. Finalmente c'è un modo, perché tutte le aziende, mi raccomando, che non ci siano in futuro sistemi di sostentamento del portale a pagamento, che ci siano sponsorizzazioni, banner o queste cose qua. I banner se ci sono, i video se ci sono, devono essere rotativi e comunque paritetici per tutti. Veramente complimenti. Devo dire però una cosa a tal proposito, che se questo è uno strumento eccezionale, promozione, a me è un po' spaventa questo bisogno d'Italia che c'è, perché se non riusciamo a fornirlo noi qualcun altro lo fornisce. E quindi non dobbiamo solo promuoverci, perché già ci cercano, anzi dovremmo promuoverci meno per assurdo, perché se non siamo in grado, non dobbiamo solo promuoverci, dobbiamo anche dare alle imprese strumenti per innovarsi, abbiamo tante imprese vecchie, stupende, perché è bella la tradizione o quant'altro, però che fanno fatica a competere in un mercato globale, dobbiamo fare in modo che le banche aiutino questo sistema di innovazione tecnologica e poi dobbiamo tutelare quello che abbiamo. Non solo nell'alimentare, nei beni pubblici e quant'altro, spesso e volentieri, io personalmente come imprenditore, vivo come sconfitte, no? Le notizie che arrivano dall'Europa, del Made in che non passa, che adesso sull'etichetta alimentare non serve più mettere il luogo di produzione ma solo il responsabile del prodotto, no? E quindi un prodotto può essere fatto in Romania o da qualsiasi parte e magari lo fanno meglio di noi, anzi sicuramente lo fanno meglio di noi perché magari avranno tecnologie migliori, non lo so, non voglio essere per forza di cose contrario a quello che viene da fuori dell'Italia, anche se noi sappiamo fare le cose bene. Quindi se da una parte promuoviamo, dall'altra pensiamo anche aiutare le imprese a tecnologizzarsi e a industrializzarsi, voglio dire, oppure anche a rimanere piccole, però in maniera migliore e a, diciamo così, a tutelare il nostro patrimonio perché è una cosa importante. Spesso e volentieri, e chiudo, questa è un'occasione di sei mesi, importantissima, sono anch'io convinto come il Ministro, come il Presidente, che la vivremo al massimo, sarà una grande occasione che sapremo interpretare, però sei mesi fa, sei mesi fa, c'è stato e si è concluso da poco il semestre europeo, che spesso, io dico, sei mesi, sei mesi, no? Lì secondo me non abbiamo capitalizzato al massimo, quindi capitalizziamo quell'esperienza non al massimo per vivere questa al massimo e far sì che l'Italia riparta veramente. Grazie.